Siamo alla quinta domenica del tempo ordinario. Quali sono, che cosa ci vuole trasmettere questa parola che noi leggiamo, la parola biblica? Noi abbiamo una prima lettura del profeta Isaia e racconta la sua vocazione. Una vocazione, cioè una vocazione che nasce da una rivelazione. Che cosa significa? Che Dio noi non lo possiamo costruire secondo i nostri criteri, secondo i nostri ragionamenti. Dio è colui che si rivela a noi, che ci viene incontro. Certamente gli uomini hanno sempre ragionato e quindi nella storia del pensiero c'è stata anche questa ricerca di una divinità di qualcuno che sta sopra, che è al di sopra. Ma il Dio di cui parla qui la Bibbia è un Dio che viene lui incontro, lui che si manifesta. Perché è un Dio che è fuori del nostro orizzonte storico. Cioè diciamo che non è il frutto di un'evoluzione, di un processo evolutivo, di qualche cosa che si sviluppa. No, ma è qualcuno che ci viene incontro, così si presenta. Allora la prima parte di questo brano del profeta Isaia è questa visione, per immagini evidentemente, di questo Dio che ha altro rispetto a noi. Ma non è indifferente nei nostri confronti. Cioè non è un Dio lontano, un Dio per i fatti suoi, è un Dio vicino. Di fronte a questa rivelazione di Dio, Isaia si sente limitato, fragile, incapace. Ed è bellissimo questo. Oimè, io sono perduto, dice il profeta, perché un uomo dalle labbra impure io sono, e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito. Eppure i miei occhi hanno visto il re, il signore degli eserciti, cioè il signore di tutto l'universo. Allora uno dei serafini volò verso di me, teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall'altare, e gli mi toccò la bocca e mi disse ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua iniquità e il tuo peccato è espiato. E poi udì la voce del signore che diceva, chi manderò e chi andrà per noi? E io rispose, eccomi, manda me. Quindi c'è questa rivelazione di Dio. La presa di coscienza della nostra fragilità è la vocazione. Chi manderò? È la missione. Cioè noi, la nostra esistenza, la vita di ogni essere umano, secondo questa prospettiva che ci viene dalla parola di Dio, è che Dio si presenta a noi, ecco, ci viene incontro. Noi prendiamo coscienza che abbiamo questo rapporto con Lui, ma siamo incapaci, fragili. E allora è Lui che ci dà la forza e ci chiama per un compito. Qual è questo compito? Di annunziare a tutto il mondo, ai fratelli, questa realtà di Dio che ci viene incontro. Ecco, annunziarla. Manda me. E qui siamo vocati, chiamati per annunziare, per portare. E così è anche nel Vangelo di questa domenica. Questo brano del Vangelo di Luca, che racconta che Gesù fa un discorso, parla. Ecco, Gesù vide, dopo aver parlato alla gente vicino al lago, vede due barche ormeggiate. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scossarsi un poco da terra. E poi lì là cominciò ad ammaestrare la gente. Quindi dalla barca di Simone, Simone che poi viene chiamato Pietro, cambia il nome, si aggiunge questo nome. Simone Pietro, Simone Pietro. Ecco, una volta, quando ebbe finito di parlare, disse a Simone, prendi il largo e calate le reti per la pesca. Simone ha risposto, maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. Abbiamo faticato tutta la notte. Abbiamo faticato tutta la notte. E' la nostra esistenza, che a volte è una fatica che sembra inutile, senza approdare a niente. E quindi c'è molte volte lo scoraggiamento. Perché? Perché non concretizziamo? Perché ci manca sempre qualche cosa? Perché siamo alla ricerca di qualche cosa e siamo sempre un po' delusi, anche a volte, della nostra vita. Ci sono momenti belli, ma ci sono anche momenti di grande delusione. In questo caso, ecco, Pietro dice, abbiamo lavorato tutta la notte. C'è la nostra vita, qui, leggiamola. Ma anche come Chiesa, ecco, come Chiesa, questa Chiesa che si impegna ad annunzare il Vangelo e poi magari vede che i frutti non ci sono. Però, sulla tua parola, Gesù dice, con tu, butta le reti. Cioè, è la fede in Gesù, è in Lui che noi possiamo ricominciare sempre. Non perdersi, non sentirsi delusi, non allontanarsi dalla realtà, ma proprio in forza di questa parola del Signore. Dice così, la notte, ecco, avendolo fatto, presero una quantità enorme di pesci e le reti si rompevano, c'è anche un fatto simbolico. Sulla parola di Gesù pescano. Il mare, a volte, era considerato quasi come un senso, in senso negativo, perché pericoloso. Salvare gli uomini, ecco, pescare è qualcosa di grande, cioè di salvezza, uscire fuori dall'acqua. A questo punto avviene un'altra vocazione. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo «Signore, allontanati da me, che sono un peccatore». Ecco, anche qui, di fronte a questo fatto, questa meraviglia, l'uomo prende coscienza del proprio limite, del proprio peccato, insomma. Perché la nostra fragilità, la nostra presunzione, ecco, a volte ci impedisce di capire il senso della nostra fragilità. Di fronte a qualche cosa che ci aiuta a rendersene conto, ecco, lui prende coscienza, si mette in ginocchio e dice «Io sono un peccatore». Grande stupore, infatti, aveva preso tutti e tutti quelli che erano insieme con lui per la pesca che avevano fatto, erano tutti impressionati di questo evento. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, quindi, ecco, che erano soci di Simona. Gesù disse a Simona «Non temere, non avere paura, non ti preoccupare della tua fragilità». Ecco, anche se noi siamo fragili, diventiamo forti se ci fidiamo di Dio, che in Gesù si è manifestato la sua attenzione nei nostri confronti. In fondo noi andiamo a Dio, e questo è il senso del cristianesimo, noi andiamo a Dio, al mistero di Dio, attraverso l'umanità di Gesù Cristo. E lui, e attraverso la sua parola, e quello che è la sua vita, quello che lui ci ha rivelato, è quella rivelazione, che noi prendiamo coscienza del nostro limite, ma anche della nostra forza, perché l'incontro con Gesù ci dà coscienza del bisogno che abbiamo di Lui, ma nello stesso tempo ci dà la forza di andare avanti, perché la fede è una forza ulteriore. Chi ha fede non si arrende mai, perché c'è la fede, perché non è fondata sulle nostre forze o sui nostri progetti, ma è questa fiducia nella parola di Gesù Cristo, nella parola di Dio, che a noi è arrivata attraverso l'umanità di Gesù Cristo. E quindi questo ci dà questa forza. E allora dice non temere. Ecco, a Pietro che diceva io sono un povero peccatore, allontanati da me, non sono degno. Ma lui si avvicina, non temere. D'ora in poi sarai pescatore di uomini, simbolicamente. Cioè sei lì a dare una sponda di salvezza agli uomini, in questo mare che a volte diventa un mare burrascoso, terribile, a volte nella nostra vita, quando sono momenti di tranquillità, ma anche momenti di burrasca, di tempesta, di maremoto, insomma, nella nostra esistenza. Allora anche in questo sarai pescatore di uomini, cioè hai un compito. Quindi si rivela questa forza di Dio che è la forza dell'amore, perché questo è il senso profondo. È l'atteggiamento di amore di Dio verso di noi, ma anche nello stesso tempo la vocazione, la chiamata. E ci chiama. Ecco, ti farò pescatore di uomini. E poi ecco l'impegno. Manda me, dice il profeta Isaia, è disponibile. E allora tutta la forza nuova sta nel fatto che loro, dopo la risurrezione di Gesù, diventano capaci di comprendere meglio il senso della loro vocazione, il senso di quello che è la loro missione. Ecco, cioè di fronte al Cristo risorto, ma fino a quel momento hanno fiducia in Gesù, ma ancora sono traballanti. Di fronte all'esperienza della risurrezione cambia la loro vita, perché la prospettiva è altra e diversa. Non è più una prospettiva soltanto storica, ma è una prospettiva che dalla storia passa all'eternità, cioè a una continuità di vita che è pienezza, che porta a una pienezza, ma che comincia però su questa terra, questa conversione, questo impegno. Credo che sia questo, anche noi, questo vale per noi. Se non facciamo esperienza reale di Dio, come esperienza personale, il nostro cristianesimo è puramente di tradizione, di cose che si devono fare, ma non è un'esperienza personale della presenza di Dio e quindi un rapporto profondo con Gesù Cristo, come facciamo a renderci conto di questa esperienza, di sentirci chiamati e mandati. Credo che questo, per ogni cristiano, è un momento importante di riflessione, ma anche di decisione, di come donare la nostra vita, di come impiegare la nostra vita e di dare, di riscoprire un senso alla nostra esistenza. E vi auguro una bellissima domenica, sia lodato Gesù Cristo, pace e bene.